Non andare sulla luna per cercare il divertimento, ma vieni alla festa del Grugro. Dal 29 agosto al 3 settembre, sei serate spaziali con Rimembria Sayonara, Onda Nomada e poi Roberto Tagliani, Rodigini, Nicola Congiu. E vogliamo parlare delle tipicità mantovane, delle pizze, delle specialità golosissime del Grugro e quindi, Houston, non abbiamo più un problema quest'estate. Dal 29 agosto al 3 settembre, la festa del Grugro vi aspetta. Per maggiori informazioni, visitate la pagina Facebook del Grugro.